Non credo faccia paura Allora, credo questa sia più una presa per il culo Non credo faccia paura No, no, no Bella ragazzi, qui Ditto Io oggi ci chiamo a One Night at the Flampties Allora, non ho mai giocato Come voi sapete, non l'avete mai visto sul canale Non ho mai giocato a One Night at Freddy's A Five Nights at Freddy's, cioè scusate E quindi Non ho assolutamente idea di come Sia questo genere di giochi Ho solamente visto quando era di moda Five Nights at Freddy's, qualche video qua e là Ma neanche troppi, quindi Non sono così esperto, giochiamolo Survive, quindi sopra che fino alle 6 del mattino Ok Poi dopo questo direi che potremmo anche giocare A quello vero, perché in effetti Perché c'è questa roba in cui è tantissima Perché c'è Winnie the Pooh smembrato Perché non l'avevo visto Vai Ok, vabbè Stavo cercando di ascoltare la trama Ma direi anche fotte sega Comunque c'è un tostapane Un toste mangiucchiato Un Maiale Mono Occhio Ok What? Perché fai versi di quello su cui clicco? Cosa devo fare? Ah Ah ok Minchia Saperlo, ok Non ho mai giocato ragazzi Five Nights at Freddy's Quindi Ok, questi sono quegli occhi Multiformi Ok Non me lo ricordavo così però Ok Ok, ci dice il mostro che Non voglio sapere Cos'è questo? Non credo faccia paura Allora Credo questa sia più una presa per il culo Non credo faccia paura La morte in faccia ho visto La morte in faccia Ok Ok, ho preso una pausa Riproviamoci Play game Oh mio dio Se Five Nights at Freddy's è così Non giocherò mai Ok Ok Deve ricominciare da capo Mi sa di sì Ok Credo eh Non sento niente Non sento neanche il telefono squillare Stiamo già Stiamo già giocando Meglio, ok Allora Qui è tutto come prima Se io lo chiudo Ok Perché non so come funziona sta merda Allora Chiudo tutto Fa un culo Ok Eh Non era qua prima Stai buono Stai buono Che cazzo Non mi posso trovare paura per un uovo È un uovo quello Questo caga Ok io c'ho una paura però incredibile adesso Ma lui c'ha Oh mio dio Terribile È pesantissimo Ok Va bene Questa stanza direi che È quella più tranquilla Cosa è stato È quella più tranquilla per ora Smettila È ancora mezzanotte Cioè è ancora Perché non passa il tempo Io chiudo eh Ok Ma perché il tempo non passa A parte che Queste qua Bisogna aprirle Oh Luna Ok Sì ma io ho paurissima Ok Ragazzi io chiudo Io mi cago Dov'è il tizio quadrato? Perché mi trovo paura Per se cosa sta facendo? Andando con la pipa Ok Oh salve madonna Se mi spunta questo come botto improvviso Muoio però È inquietantissimo il fatto che Che Fissi la telecamera Ah no No ok Chiuditi Ragazzi Sì estremamente Via Come fa a essere già qua? Dov'è? Sono insieme adesso L'uovo e l'uomo quadrato Lui è sempre lì che caga Ok Sono solamente Loro tre I mostri di questo gioco Ok Perché ancora l'una? Perché ancora l'una? Ah ora lui è tornato qua L'uovo dov'è? È lì che... Ok Va bene va bene va bene va bene Va bene Ok io lo lascio aperto per ora Madonna però sono ovunque Io chiudo eh Che caga Mi sto cagando Perché si è aperto No la porta L'ho lasciata aperta No Non c'è il quadrato Non c'è il quadrato ragazzi No 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 Allora Dormono simpatici Lui sembra... Ok E vabbè Credo che fino a una certa ora Non possa accadere niente no? Quindi vabbè Aspettiamo Se faccio così Prima o poi mi sa che mi cago addosso In maniera... Ok Vabbè Tanto Finché è lì Finché è lì inizio Non credo possa Accadere Minchia Sti due stanno intanto facendosi viaggi Finché è l'inizio Non credo possa accadere Qualcosa C'è anche il 2 È di questa merda Di Five Nights Di One Night Ma che altro si chiama? One Night at Flampties C'è anche il 2 Perché? Perché no? Ah è gratis Ecco Questo è gratis Ok Stanno parlando fra di loro Infatti Ho giocato a questo E non a Five Nights at Freddy's Perché questo qui l'ho trovato Stavo cercando gli indie a caso Come al mio solito Ho trovato questo Ho detto Cazzo questo è gratis Giochiamolo Five Nights at Freddy's Mi sembra che invece si compri Quindi Ancora Non volevo comprare proprio un gioco Così a porte chiuse Volevo intanto almeno giocare a qualcosa Che fosse simile Porca merda Ora che so che è carino Direi che un pensierino Ce lo posso anche fare Che palle però Io ho le porte aperte Non mi fare male Ok Mi puoi guardare quanto vuoi Tanto ho le porte chiuse Ho le porte chiuse Stronzetti Ho le porte chiuse Non potete fare niente Niente potete fare Ok Che ridere vero? Ed è già l'una Ed è già l'una Potete fare quello che cazzo volete Guardarmi e tutto quanto Ma tanto è già l'una Perché c'è Winnie the Pusmembrato Poi fra l'altro Sto ancora chiedendo Una cosa mi turba tantissimo Perché Why Why Tanto qua Accadono cose Vabbè intanto se non apro le porte Non accade niente di che Però io le tengo chuse Almeno alle 3 ci voglio arrivare ragazzi Quindi piuttosto mi Scarico tutta la potenza La batteria Chiamiamola delle porte Ma io alle Free AM ci voglio arrivare Ok dai Lascio aperte un po' di brivido Oh piano però Ok adesso non posso più fare il furbo eh Vero Basta 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 No 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 Così non ci siamo Così non ci siamo Leone il cane fifone Non è d'accordo ragazzi Vero No 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 Ecco appunto Quindi ci vediamo nella prossima parte ragazzi Panculo Panculo Non ci vediamo la prossima parte